Siamo ad AgroGeneration, l'evento di EREA con il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura e incontriamo il Ministro Martina. Fra i temi di oggi è anche l'agricoltura digitale. Cosa significa agricoltura digitale nei piani del Ministero? Noi abbiamo fortemente voluto questo momento di ascolta e di confronto con tante esperienze, in particolare con tante start-up che stanno lavorando sulla frontiera dell'innovazione e la tecnologia applicata in particolare all'agricoltura perché abbiamo praticamente pronte le nostre linee guida per l'agricoltura di precisione, vogliamo lavorarci anche in vista della prossima legge di stabilità e quindi ci interessa capire il potenziale formidabile che l'Italia può esprimere su questo fronte. Anche per dare poi strumenti a tante esperienze, poter lavorare in prospettiva e quindi questo è un po' un laboratorio di ascolto e di confronto che ci serve per preparare le scelte in particolare dell'autunno. A presto!